buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo delle scadenze per docenti e personale ata di aprile e maggio 2023 prima domanda quando scade la domanda di partecipazione agli esami di stato del secondo ciclo per fare il presidente e o il commissario esterno e poi vorremmo sapere se è una domanda obbligatoria oppure facoltativa beh la domanda di partecipazione agli esami di stato per il secondo ciclo per fare il presidente oppure commissario esterno entrambe le funzioni scade il 5 aprile 2023 per i docenti che volessero svolgere la funzione di presidente bisogna avere un'anzianità di ruolo di almeno dieci anni l'istanza per fare il presidente è obbligatoria per i dirigenti scolastici delle scuole del secondo ciclo ma è data la facoltà anche ai dirigenti scolastici della scuola del primo ciclo che possono fare l'istanza c'è una nota ben precisa la nota 9.260 del 16 marzo 2023 che esplica chi ha l'obbligo e la facoltà di fare la domanda come presidente i docenti della scuola secondaria che non sono impegnati come commissari interni per gli esami di stato dovranno fare obbligatoriamente la domanda di partecipazione come commissario esterno hanno chiaramente la facoltà di farlo anche come presidente ma hanno l'obbligo di farlo come commissario esterno sempre per la stessa nota che ho citato prima cioè quella 9.260 del 16 marzo 2023 c'è un elenco di categorie di docenti che non hanno l'obbligo ma hanno la facoltà di presentare istanza vediamo la seconda domanda come quando potranno essere presentate le domande del personale ata che vuole entrare nelle gradatorie provinciali per i ruoli e per gli incarichi annuali per entrare nelle gradatorie provinciali degli ata denominate 24 mesi bisognerà attendere aprile 2023 mese in cui sarà data l'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area a e b del personale ata le domande di ammissione alle procedure potranno essere presentate appena esclusione unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione polis del ministero dell'istruzione del merito le cui funzioni per la presentazione delle istanze online saranno aperte per chi ha almeno 23 mesi e 16 giorni di servizi in un dato profilo ata tra la fine del mese di aprile e fino alla metà del mese di maggio terza e ultima domanda quando sarà possibile accedere alle gradatori gps prima fascia attraverso i cosiddetti elenchi aggiuntivi e chi potrà accedervi all'apertura della finestra per l'inserimento degli aspiranti docenti negli elenchi aggiuntivi della prima fascia gps sarà disposta nel mese di aprile e presumibilmente dal 12 al 27 aprile 2023 così è scritto in una bozza diciamo del ministero consegnata tra l'altro anche ai sindacati potranno inserirsi in questi elenchi aggiuntivi i docenti che avranno conseguito o conseguiranno entro il 4 luglio 2023 la specializzazione sul sostegno o l'abilitazione all'insegnamento per una determinata classe di concorso o ancora i laureati nella facoltà di scienze della formazione primaria certamente chi non ha ancora il titolo ma lo conseguirà entrerà in questi elenchi aggiuntivi con riserva speriamo che le risposte a questi quesiti siano diciamo di gradimento dei nostri telespettatori seguiteci ancora sia sul nostro sito www.tecnica.scuola.it e sui nostri canali social arrivederci alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti